Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema spalmabile al cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte condensato, cioccolato bianco, panna fresca e vanillina. Andiamo il via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il latte condensato. la panna fresca e la vanillina e facciamo cuocere per 6 minuti. 60 gradi, velocità a 3. Trasferiamola in dei vasetti di vetro e lasciamola raffreddare completamente prima di chiuderla, successivamente riporla in frigo per due ore prima di servire. crema spalmabile al cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!